Ciao a tutti, bentornati sul canale di Roberta, questo è un video haul. Ho approfittato degli ultimi saldi e del mio recente compleanno per acquistare delle cosine di skincare, di makeup e di fragranze. Cominciamo dalle fragranze e ho fatto una capatina sul sito di Bath & Body Works, un negozio che mi fa impazzire, io amo tutte le loro linee, le profumazioni le trovo molto più interessanti di quelle di Victoria's Secret ad esempio e mi chiedo come mai in Italia ci siano ancora così pochi negozi fisici vista la richiesta perché è un marchio che piace tantissimo. Allora ho acquistato 4 mist in full size, tutto quello che vedete l'ho pagato al 70% di sconto quindi veramente pochissimo e ho approfittato di prendere due mist in edizione limitata di Natale quindi credo che l'anno prossimo non ci saranno più. Sto parlando di questa linea qui, una linea super golosa, le fragranze sono buonissime, questa è la Vanilla Bean Noel, è una mist che sa di dolcetto, di vaniglia, di buono, di Natale, di caldo, di pasticcino appena sfornato, è davvero una coccola e non la vedo adatta solamente al periodo invernale o prettamente natalizio, questa è una vaniglia molto dolce che se è di vostro gusto potete tranquillamente vaporizzare tutto l'anno. La seconda della linea natalizia è la Winter Candy Apple, come è facilmente intuibile dal nome questa sa di mela ma una mela un pochino più speziata che rimane dolce ma che poi si unisce alla cannella a questo vin brulee caldo e la rende sicuramente una fragranza molto golosa, molto calda e adatta alle feste e all'autunno. Le altre due mist invece credo che fossero sempre delle edizioni limitate ma non ne sono sicura e a mio parere sono perfette per tutto l'anno quindi le ho pagate solamente poco più che 5 euro anziché 20 perché il costo base di una mist Bat & Body Works è all'incirca 20 euro quindi credo di aver fatto un affare. Allora una è la Magic in the Air, questa qui, ma guardate che meraviglia il pack olografico e quest'altra è la Warm Vanilla Sugar, anche questa con una confezione splendida. Allora per quanto concerne la Warm Vanilla Sugar è una vaniglia molto calda che io vedrei perfetta anche d'estate perché non molto dolce anzi forse leggermente speziata e invece la Magic in the Air è buonissima perché sa di iris e di fiori di mandorlo quindi perfetta per il periodo della primavera che sta per arrivare. Inoltre sempre al 70% ho trovato questo cofanetto fantastico, è perfetto per un regalo, per un autoregalo come nel mio caso e all'interno troviamo un'altra linea che sinceramente io volevo prendere in full size ma sono arrivata troppo tardi, credo di aver pagato il cofanetto solo 14 euro e presenta all'interno il doccio a schiuma, la crema e la fragranza di questa linea in the stars e diciamo che tra tutte quelle che vi ho mostrato la fragranza è quella più speziata, piccante, quella più calda, adatta alle donne che indossano anche profumazioni maschili perché sicuramente all'interno c'è del sandalo, forse anche del tivè, le spezie, quindi è davvero buona e seducente. E con Bath & Body Works abbiamo terminato. Passiamo al make up, ho fatto un giro da Wicon e ho voluto prendere tre ombretti in crema della collezione Niloufar di cui l'anno scorso quando è uscita non ho acquistato nulla, questi ombretti in crema mi hanno colpito tantissimo, sono fantastici perché sono sottili, sono in mousse ma sono leggeri, si fissano, durano tutto il giorno, non fanno deposito, non fanno stampino e le colorazioni sono splendide. Io ne ho acquistati tre, esattamente la numero 101 Rose Gold, la numero 104 Misty Rose e la numero 109 Antracite. Guardate anche che bello il packaging secondario, davvero elegante, fate anche un'ottima figura se dovete fare un piccolo pensiero. Guardate la consistenza, è davvero morbida, soave, si applica con estrema facilità, questo è il numero 104, il mio preferito, è questo appunto Rose Gold che da solo fa tutto il make up, vi poi basta solamente un po' di mascara, un rossetto e via, siete pronte per uscire. Il numero 101 invece ha questa colorazione sul dorato, direi abbastanza classica, ma io utilizzo sempre questi colori, quindi ho voluto prenderlo. Questo è lo swatch, vi chiedo scusa se sentite dei rumori ma ho dei vicini di casa molto rumorosi. e l'ultimo è il 109, questo Antracite Melanzana, perfetto per creare uno smokey al volo, per un trucco giornaliero, un trucco serale, anche qui un giro di mascara, un rossetto e siete a posto. È un colore splendido e lo consiglio davvero a tutti. Fate un giro da Wicon perché almeno il mio punto vendita ne aveva ancora tantissimi. Poi ho voluto approfittare della promozione 3 più 1 per acquistare le mie amatissime matite labbra. Come già ho avuto modo di dirvi in un altro video, questo è il mio prodotto low cost preferito in assoluto perché costano pochissimo, hanno dei colori splendidi e sono a lunga tenuta, almeno su di me durano tutto il giorno. Io questa volta ho voluto acquistare 4 matite nude che sinceramente non avevo mai preso. e sto parlando della numero 54 mauve, eccola qua, è questo classico rosa mauve portabile, io poi ho tantissimi rossetti di questa nuance, la numero 22 palais mauve, quindi leggermente è più chiara, eccola qui, la numero 65 elevate che sto avendo difficoltà ad aprire, ma forse ce l'ho fatta, questo nude un po' più caldo, e la numero 63 control, questa forse è ancora più calda, diciamo quasi un terracotta, ma sono tutti colori che mi fanno impazzire e ve li straconsiglio, le matite sono morbide, si applicano facilmente e come vi dicevo sono molto durevoli e super super low cost. Sono stata anche da Kiko, avete visto recentemente un mio video haul sulla nuova collezione mood boost e ne ho approfittato perché in negozio ho trovato scontatissimi anche dei pezzi di collezioni passate che valeva davvero la pena prendere. Della Lost in Amalfi ho scelto questo esfoliante per il viso, è uno scrub delicatissimo, i granuli non sono per niente abrasivi ma fanno bene il loro lavoro e l'odore e la profumazione è incantevole, è fresca, è a base di agrumi e quindi lo vedo perfetto per il risveglio mattutino. Poi della collezione Sicilian Notes ho voluto acquistare due ombretti liquidi, eccoli qua, che però a loro volta sono duo, hanno una parte con il colore opaco e l'altra con un colore metallico. Io ho scelto lo 02 e lo 04. Lo 02 ha questa combinazione del color cipria opaco da una parte e il bordo metallico dall'altra e lo 04 ha la combinazione del fango e del taupe metallico. Sono molto pratici, questi prodotti io li acquisto e li riacquisto non solamente di Kiko, ma devo dire la verità che negli anni, soprattutto quelli di questo brand, mi hanno sempre dato grandi soddisfazioni. Erano davvero scontatissimi, li ho pagati credo 3 euro l'uno. Magari fate un salto sul sito di Kiko per vedere se anche voi riuscite ad accaparrarveli. E per terminare con Kiko ho acquistato anche qualcosa della Tanscan Sunshine. Ho trovato il fondotinta, era l'ultimo nella mia colorazione, lo 01, che credo sia porcelain, ivory non c'è scritto. Eccolo qua. Molto bella la confezione, forse è scritto qui sì, ivory. E come vedete, sia il packaging esterno riporta i fiori, diciamo delle campagne toscane, e anche sulla confezione, devo dire che questi packaging di Kiko sono molto curati. È un fondotinta molto fluido, quindi va shakerato bene prima dell'applicazione, e ha appunto questo quasi contagocce per farvi dosare meglio il prodotto. Credo che questo sia perfetto per l'estate, perché comunque è un fondotinta leggero, forse quasi una BB cream. Della stessa collezione ho voluto acquistare anche il blush, non potevo lasciarlo lì perché è splendido. È un classico color mauve. Come vedete, il packaging primario, anche in questo caso, merita tantissimo. Ha uno specchio, un bello specchio, e all'interno della cialda ci sono due colori, uno rosato e uno marroncino, che poi, miscelandoli, danno vita al mauve. Questo colore è portabile e delicato. Eccolo qui. Sono stata poi in farmacia e ho trovato un kit di eofidra che mi è piaciuto tantissimo e non potevo lasciarlo lì. Voi lo sapete, io sono matta, riesco ad acquistare make-up e cosmetici un po' ovunque. E questo è un kit che è venuto proprio poco, 12,90 euro, che ha al suo interno un blush multicolore e un lip gloss. Erano presenti due colorazioni, ma io non ho visto molta differenza tra le due. Io ho scelto questa, un po' attratta dal packaging rosa e dal colore del gloss, che vi mostro subito. Eccolo qui. confezione classica. È, diciamo, una mini size. E la colorazione mi piace tantissimo, perché è un mauve berry, di quelli che solitamente sono abituata ad indossare. Molto bello da solo, oppure da indossare come top per un rossetto. E questo è il blush, mi piace tantissimo che sia con la sua confezione all'interno della confezione principale. Quindi, pack nel pack, è una bella idea anche da regalare. Questa è la confezione primaria, come vedete è molto elegante, ha un grande specchio e, perdonatemi la cialda, già l'ho sbocciata perché ero troppo curiosa, ha un pennellino. E poi questi sono i colori, la gradazione dei colori, che miscelati insieme danno vita a questo color biscotto molto delicato, che vedo perfetto per tutti gli incarnati e soprattutto poi per l'estate. E anche con Neofidra abbiamo terminato. Un giorno poi casualmente sono stata da OVS e ho trovato delle referenze di un brand che non avevo mai visto prima e di cui sinceramente non ho neanche sentito mai parlare qui su YouTube. Sto parlando di Color House, che è un brand spagnolo ma che produce in Cina e devo dire che sugli stand non erano presenti tantissimi prodotti. Io ho scelto due referenze, ovvero il quad di Blush e la palette Occhi. Ho pagato il Blush 5 euro e la palette circa 10 euro. Non sono prodotti dall'estrema scrivenza, dall'estrema pigmentazione, però devo dire che i colori sono molto carini. I packaging, come vedete, sono curati e molto romantici. Mi sono piaciuti e quindi ve li voglio segnalare perché anche per fare un regalino per la vostra collezione ne vale davvero la pena. Allora, il quad di Blush all'interno non ha lo specchio. Queste sono le cialde. Troviamo due rosati che si somigliano tantissimo, un fucsia e un color berry violaceo. Procedo a farvi gli swatch. Come vedete, io la palette già l'ho utilizzata perché ho questi prodotti già da un po' di tempo. E questi sono gli swatch. Come vedete, non c'è molta differenza tra il primo e il secondo colore. Ecco qua. Questi si perdono un po', devo dire. Non sono molto pigmentati. Poi, vabbè, il fucsia e il color berry invece rendono molto di più anche dalla videocamera. La palette occhi invece ha lo specchio all'interno. Ecco il suo packaging primario, sempre in cartone. Mi piace davvero tanto. E devo dire che le nuance, la selezione colori, mi è piaciuta molto perché come vedete abbiamo dei rosati, dei colori chiari per creare dei punti luce, qualche colore di transizione un pochino più caldo, un marroncino, un petrolio, un verde. Insomma, devo dire che è una paletta assolutamente completa che può battersela anche con brand come Makeup Revolution, come Catrice, Essence. Insomma, diciamo che più o meno il livello qualitativo è quello. Procedo a farvi qualche swatch. Lo farò sia dei colori più chiari che di quelli un po' più scuri. Devo dire che qui la pigmentazione non è eccellente. Forse i blush erano un pochino più scriventi. Però, diciamo, dipende un po' dal colore perché quelli diamantati forse si vedono un pochino meglio di questo che è opaco. E prendiamo anche qualche colore più vibrante, un pochino più scuro. Ad esempio, questo verde, questo petrolio. Come vedete, scrivono abbastanza. Ho finito le dita, ma vi faccio qualche altro swatch. Questo è un colore caldo da transizione. Eccolo qui. Presente in tantissime palette. E poi uno dei miei preferiti è questo color fragola diamantato. Eccolo qui. Dicevo, per quello che costano, si può provare. Quindi, se le trovate, dategli una chance e fatemi sapere cosa ne pensate. Su sephora.it ho trovato ancora delle cosine nei saldi. E non ho potuto lasciare lì la Pumpkin Spice di Too Faced. È una paletta a cui ho fatto la corte tutto l'autunno, tutto l'inverno. E che mi sono aggiudicata al 30% in meno, perché ho saputo aspettare i saldi. Sono stata anche fortunata perché l'ho trovata. E devo dire che ho fatto benissimo. Anzi, mi chiedo come io abbia fatto ad aspettare tutto questo tempo. Il packaging, come sempre, è strepitoso. Le palette di Too Faced le ho quasi tutte. La qualità è molto buona. Il profumo paradisiaco. E i colori sono splendidi. Anche di questa palette amo tutto. Le nuance, la combinazione, sono perfette per ricreare qualsiasi tipo di look. Da quelli più intensi, perché comunque ci sono colorazioni, come vedete, sul violaceo, il fucsia. A quelle più delicate, perché ci sono colori anche naturali. E giocati poi su quelli che sono i toni della zucca, delle spezie. È tutto in linea con il mood di questa collezione. Vi faccio degli swatch. Sia di quelli, diciamo, più intensi, che in questo caso sono opachi. Sia dei diamantati e degli iridescenti. C'è questo oro che è molto polveroso, ma ha una consistenza quasi cremosa. Vi faccio vedere. Questo è il color oro. Questi invece sono degli opachi. Non sono forse così tanto pigmentati, però la qualità, come vi dicevo, è molto buona. E Too Faced non mi delude quasi mai. Voilà. Ecco. Questo è un iridescente rosato. Questo colore caldo, molto bello per la piega dell'occhio. Il dorato, il fucsia e il marrone. Ci si gioca molto bene con queste nuance. Non vedo l'ora di provarla sugli occhi. Ho resistito fino ad oggi che vi ho fatto il video, ma d'ora in poi potrò assolutamente divertirmi. Intanto sto preparando le mani per le prossime palette. In questo video ve ne faccio vedere tantissime. E sto utilizzando queste salviettine di seta blu che ho acquistato insieme ad altri prodotti che voglio mostrarvi sempre in questo video. Sono delle salviettine a pH 5.5, delicatissime, all'olio di mandorla. Sono per i bambini, ma io le utilizzo per tutto. Per gli swatch, per l'igiene intima. Sono 72 pezzi. La confezione è bella grande. Sono morbide. Sono abbastanza spesse. Questa l'ho utilizzata, ma vi faccio vedere che la qualità è davvero buona. Non sono di quelle sottili che dovete prenderne tre o quattro per struccarvi. Questo marchio seta blu mi sta piacendo tantissimo perché è di Salerno. Tra l'altro non mi è neanche così lontano da casa. E produce dei prodotti molto interessanti che tra un po' vi mostrerò perché ho acquistato qualcosina in un emporio. Ma non sono facilissimi da trovare. Ditemi se anche voi nelle vostre regioni riuscite a reperire qualche referenza. Mani libere per i prossimi swatch, vi mostro le ultime due palette del video. Ho voluto acquistare qualcosa della Rude Cosmetics e della Only Oily. Questa la trovate su Amazon a circa 11-12 euro. E invece questa della Rude Cosmetics è un po' più facile da reperire. Io l'ho acquistata su un notino. Cominciamo proprio da questa. Ha un packaging favoloso. Credo che l'ho pagata a circa 16-17 euro. Qui trovate questa flapper, questa donna in abiti anni 20. Il mood è proprio quello. Sembra un po' una palette art deco. Infatti il potere del packaging anche qui ha vinto. Ma la qualità di questa palette, ragazze, è straordinaria. Rude Cosmetics è un brand americano. Ci sono tantissime altre referenze tra cui scegliere. Per gli occhi, per le labbra, per il viso. Io ho cominciato da questa. Perché come sapete la palette è un test molto importante per la qualità di un brand. E adesso che vedrete i colori, questa palette ve ne ricorderà sicuramente un'altra. Ma non è assolutamente un dupe. All'interno c'è un grandissimo specchio. E questi sono tutti i colori. Ne ho provato già qualcuno. È una palette meravigliosa. Ha tutti questi rosati, questi mauve, marroncini. Che mi fanno impazzire. Così ad occhio sono sicura che vi sta ricordando la nude di Huda Beauty. Perché appena l'ho vista ho pensato appunto che fosse un dupe. Ma non lo è perché ci sono delle nuance che sono completamente diverse. Altre possono tranquillamente ricordarla. Ma io possiedo anche l'originale. Ho fatto gli swatch di entrambe. E questa è una paletta assolutamente unica. Quindi se avete quella di Huda e volete provare questa di Rude potete farlo tranquillamente. C'è una grande varietà di finish. Ci sono proprio dei colori che nella Huda non ci sono. Ad esempio questo. E guardate la pigmentazione. Questa è una palette molto più pigmentata e molto più bella di quella di Huda. E non c'è storia. Questa proprio vince a mani basse. Guardate qui i colori, il finish e adesso vi faccio degli swatch. Di cosa stiamo parlando? Una palette che costa solo 16-17 euro. Con questa scrivenza, questa gamma colori. Io non me la sono fatta scappare. Non fatelo neanche voi. Ve la straconsiglio. Credo che a questa palette dedicherò un video intero. Farò un tutorial con questi colori perché è davvero una grande scoperta. E se avete difficoltà a trovarla potete scrivermi qui sotto. Io magari vi darò delle indicazioni sulla sua reperibilità. Ultima palette di questo haul è la Only Oil. Una palette di fabbricazione cinese ma che anche in questo caso vi stupirà. Ho visto questa palette in un video di Amaryllis del canale Cuba Libre. Una mia carissima amica e collega che ha mostrato questa palette in un video haul e me ne sono subito innamorata. Andate a seguire il canale di Amaryllis perché è una ragazza competente sul make up, sui profumi e dalla simpatia disarmante. È una persona speciale e io adoro guardare i suoi video e sono sicura che amerete anche voi. All'interno di questa palette non abbiamo lo specchio ma ci sono tantissimi colori. Sempre giocati su toni caldi, nude, mauve, marroncini. Sono quei colori che ritornano sempre nelle mie palette e sono sicura che la sfrutterò tantissimo. Procedo a farvi qualche swatch. Anche qui, come vedete, c'è questo borgogna metallico che è davvero burrosissimo. Sembra quasi in crema la cialda. È molto simile a quello della Rude Cosmetics. Forse è quasi un dupe. Guardate qui. Questo è un rosato. metallico, cangiante, molto bello. Proviamo anche qualche opaco. Andiamo con uno più chiaro e un altro un po' più scuro. Li vede un po' polverosi ma nulla di grave. Poi, devo dirvi la verità, questo è un video haul. Sicuramente poi vi darò delle prime impressioni. Forse è un pochino meno pigmentata della Rude Cosmetics, ma i colori mi piacciono ugualmente e non vedo l'ora di provarla sugli occhi. Come già vi ho detto, ho trovato questa palette su Amazon. L'ho pagata circa 11-12 euro e vi arriva in tempi record se avete Amazon Prime. E devo ringraziare davvero Amarillis perché adesso potrò divertirmi realizzando tantissimi look. Cioè, ho affondato un dito in una cialda. Guardate questi glitter pressati. Cioè, sono una roba pazzesca. Guardate che belli. Sono strepitosi. In un negozio, un emporio esattamente della mia città, ho poi trovato dei prodotti per la skincare davvero molto interessanti. Ho voluto provare due prodotti dell'Avantime. Sono due acque micellari bifasiche in boccioni da 400 ml. Quindi ho la scorta praticamente per tutto l'anno. Ho letto che l'Avantime fa parte dell'azienda Cosmoway della provincia di Torino. Quindi immagino che siano prodotti 100% italiani. E queste acque micellari sono una bomba. Io già le ho provate. Struccano benissimo il trucco waterproof. Ma lasciano la pelle anche molto idratata, molto fresca. In negozio erano presenti tre referenze. La classica per pelli normali all'olio di argan. Questa all'estratto di aloe vera e papaya per pelli secche e fragili, con questo color verdino. E questa per pelli sensibili con estratto di malva e aloe vera. Questa con la soluzione bifasica sul violetto. Sono fantastiche, costano poco. Io ve le straconsiglio. Se le trovate, fatemelo sapere. Per rinnovare un po' la mia skin care e soprattutto per conoscere meglio il brand Ceta Blue, ho acquistato questo scrub delicato alla perlite e vaniglia. Ci sono proprio i semini della vaniglia all'interno. Non so se potete apprezzarlo dalla camera. E la perlite è un minerale esfoliante che in questo caso è stato micronizzato a mio parere eccessivamente. Infatti questo è più un detergente che uno scrub. Io preferisco peeling un pochino più abrasivi ma allo stesso tempo delicati. E questo devo dire che fa bene il suo lavoro ma non mi ha affatto innamorare. L'odore è gradevolissimo perché è presente la vaniglia. Ve lo consiglio se proprio state cercando un esfoliante molto leggero. Sempre di Seta Blue ho voluto provare questi patch in idrogelle per il contorno occhi con effetto defaticante. Questi sono al gusto di arancia e mango e ho grandi aspettative da questo prodotto. Ho acquistato questi strip per il naso e la zona T per rimuovere i punti neri. E queste tre bustine che mi hanno fatto subito pensare a quelle dell'HQ. Sono delle monodosi, in realtà ce ne sono da 5 a 10, di maschera, siero e crema per il viso. Andiamo a vederla una per una. Partiamo dalla maschera viso. Questa è arricchita da veleno d'ape. È tonificante e rassodante. Qui ci sono 5 dosi. Per quanto concerne il siero, questo è arricchito di oro 24 carati, ha un effetto antietà e riuscite ad ottenerne 10 applicazioni. Ultimo prodotto che ho acquistato è questa crema perfezionante, illuminante, all'estratto di polvere di perle naturali che accelera il rinnovo cellulare. Riuscite a fare 10 applicazioni e devo dirvi che nutro grandi aspettative da questi prodotti perché sono costati pochissimo. Credo i patch con tornocchio 1,50€, gli strip per il naso e i punti neri 1€ e queste bustine siamo sempre tra l'euro, l'euro e 50€. Vi ringrazio se avete visto questo video fino alla fine perché i prodotti erano veramente tanti questa volta, anzi non vedo l'ora di leggere i vostri commenti per sapere cosa ne pensate. Se vi va di sostenermi iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti e come al solito se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!